Benvenuti alla quarta parte dell'esplay di Kingdom Hearts 358-2 Oggi è il giorno 11, è scritto in basso E dobbiamo iniziare la missione di oggi Nella missione di oggi dovrei usare la magia Sei pronta a partire? Certo Una cosa, se voi non impostate le magie nel vostro inventario Non vi farà partire missione Anche perché sarebbe inutile Dov'è l'Arxen? Eccola lì Grazie per essere venuto Ehm, ciao Ah, peggio di così non potevo andare Perché devo accompagnarti io nella tua stupida missione da poppante? Sono la tua balia? Ecco, per un attimo dicevo come, l'Arxen? Gentile? Che ci pensi te, Mix? Tanto non è che sappia fare altro Ma no, lo sta demoralizzando Cosa cosa? Hai qualcosa da dire? No Pff, non saresti nessuno senza quel Keyblade Oh oh, mi è appena venuta un'idea Oh oh, che c'è in realtà? Affronterai la missione senza il Keyblade Maledetta Cosa? E perché? Perché lo dico io, capito? Sbaglio o Sykes ti ha chiesto di far pratica con la magia oggi? Bene, nuota o affonda? Mi sa che affondo, visto che ho solo 3 Fire Ecco, affondo Ecco, ah, lo dice pure lui Ecco, affondo, io non so usare la magia Beh, non imparerai mai se continui a portarti dietro quella chiave gigante Sì, ma Ah, perfetto Ecco un Heartless Avanti, lascia un po' da quella Lasciala un po' da parte e usa la magia Io resterò qui a osservarti Vabbè, usiamo la magia Se mi ricordo come si usa Stavolta lo leggo Premi X Selezione di comando magia Premi A Ok Devo fare Così Farmi beccare E poi così Oh, screen Ether Chissà perché non mi sorprende che ci sia dell'Ether qui dentro Oh, ne arrivano altri Forza, spazzarvi a tutti Ci sono 5 e io ho solo 2 Fire Sono un po' fregato Alla velocità con cui ti muovi rimarremo qui per l'eternità Va bene, questa volta puoi usare il tuo Keyblade Aspetta, non dovrei imparare ad usare la magia Vuoi finire la missione oppure no? Muoviti, forza Questa se non sbaglio è l'unica missione che facciamo con l'Ark Sam Meno male Ah, se hai bisogno di curarti, fallo da solo Minia, grazie Gentilezza fatta persona Sì, ho capito, basta tutorial L'ultimo screen è qua Ma siccome la so usare la magia, me ne frego di allenarmi Quindi Dove scappi tu? Ancora non ho nemmeno l'abilità scan Forse la prendo in questo In questa missione Sinceramente non mi ricordo quando si prende Abbastanza presto Ma l'ho schivato un fulmine Ok, prendiamo tutti i soldi prima che finisce Ok Allora Ah, finalmente La peggiore missione della storia Ma va a cagare Sinceramente E tu saresti il nostro asso nella manica Siamo messi bene Eroxa Sa anche tu Dighi qualcosa Non sai nemmeno reggere una normale conversazione Datti da fare Altrimenti non riusciremo mai a completare Kingdom Hearts A meno che non troviamo qualcun altro in grado di utilizzare il Keyblade Perché? Avete qualcun altro? Fatte gli affaracci tuoi Tu pensa solo a sconfiggere gli Earthless E a raccogliere i cuori per noi E comunque è l'unica cosa di cui Tu sia capace E comunque è l'unica cosa di cui tu sia capace Andiamone Andiamocene Mi stai facendo venire il mal di testa Ma ero Bullismo nei videogiochi Che sto facendo? Metto no Tornare al castello? Sì Aspetta Che mi hanno dato? Oh L'abilità Scan Finalmente E' la prima abilità che mi metto Mi dissero che il mio Keyblade Poteva liberare i cuori Ma perché lo possiedo? Come ho imparato a utilizzarlo? Più informazioni ottenevo Meno mi sembrava di sapere Giorno 12 Un mondo chiuso Wow Vexcel Oggi sei tutto mio Roxas Voglio usarmi come cavi Oh mio dio Ok Parla con Sykes Quando sei pronto Non mi ricordavo Che arrivava così presto La missione con Exel Tipo comande Vabbè non me ne frega niente Comunque E' finita anche questa parte Lo so è corta però Facendo una missione per parte E' anche logico che vengano corte La prossima Se non ricordo male Verrà più lunga Ciao a tutti E ci vediamo con la prossima parte Ciao a tutti Grazie a tutti.